Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Torniamo a parlare di politica per incontrare i protagonisti della prossima campagna elettorale per le regionali in Abruzzo. Si vota, come sapete, il 10 di marzo, ma la data di oggi è quella del 12 dicembre. Una data non casuale per la scelta anche dell'ospite che ha colto il nostro invito e presente nei nostri studi. Salutiamo e ringraziamo l'avvocato Marco Alessandrini. Buonasera. Buonasera Carmine, buonasera ai telespettatori. Marco Alessandrini, già sindaco di Pescara, è qui a Rete 8 il 12 dicembre. Data tragica per la storia di questo paese, una strage di Piazza Fontana, una strage per la quale c'è una verità giudiziaria ancora non del tutto chiara. Anzi, c'è una sentenza di assoluzione passata in giudicato, c'è una situazione ancora di grande nebulosità attorno a quei fatti, almeno dal punto di vista della verità giudiziaria. Anche se la ricostruzione di quegli anni Alessandrini, la ricostruzione forse più giornalistica che giudiziaria, ha portato a delle conclusioni circa le trame nere, che in quegli anni hanno colpito duramente, ovviamente, innanzitutto la sua famiglia, ma poi hanno colpito duramente questo paese. Quali riflessioni le vengono innanzitutto, prima di parlare di alto, pensando alla data di oggi? Innanzitutto direi che cominciamo col botto, perché il 12 dicembre, in un ideale calendario laico della Repubblica, è una data che, diciamo, anche Francesco De Gregori parla dell'Italia del 12 dicembre in una canzone, Viva l'Italia per l'appunto. Il 12 dicembre, a cui fa riferimento Er Principe, come viene chiamato appunto De Gregori, è il 12 dicembre del 1969, un venerdì, allorché esplode una bomba in una banca, Piazza Fontana, Milano, Banca Nazionale dell'Agricoltura, e comincia la cosiddetta strategia della tensione, comincia il terrorismo. In Italia comincia un gran casino, una cosa molto brutta, orrenda, in cui si mettevano le bombe per le strade, per le piazze, sui treni, ok, e che oggi è una giornata simbolica, tant'è vero che mi hanno invitato in una scuola a parlarne con le ragazze, insomma perché è una pagina, credo, che vada conosciuta. Una pagina che però non è stata ancora, dicevo, del tutto chiarita dal punto di vista della verità giudiziaria, proprio su Piazza Fontana abbiamo delle assoluzioni passate in giudicato, quindi sentenze che non potranno essere, almeno per quanto riguarda le posizioni principali riviste. Ecco, c'è da parte anche dei familiari delle vittime del terrorismo, la necessità che, al di là della verità che è stata accertata dal punto di vista storico, anche da parte di commissioni parlamentari, ci sia però anche la capacità del Paese di trovare dei responsabili, magari a un livello diverso rispetto a quello dei terroristi, degli esecutori parteriali, penso anche alla strage di Bologna che è l'esempio più eclatante da questo punto di vista. Qui dovremmo fare propriamente una trasmissione sull'argomento. Telegraficamente lo stragismo in Italia ha tanti problemi, in un ultimo quello per cui non si è arrivati ad una sentenza che indica i colpevoli, la bomba, la messa Tizio, Caio Sempronio, il mandante, è che a questo non si è arrivati in generale per lo stragismo. Noi stiamo parlando di Piazza Fontana, il processo comincia, i fatti non sono del 69, il processo comincia nel 77 a Catanzaro per ragioni di competenze territoriale, legittima, suspicione, tutte queste cose belle qui e finisce nel 2005. Finisce nel 2005, non c'è un colpevole per la giustizia italiana, i familiari delle vittime costituiti parte civile sono stati condannati a pagare le spese processuali. Questi sono fatti e sono anche un modo molto brutto di essere del nostro Paese. Poi ci sono le sentenze, non sono molte, penso per esempio su Bologna, Mambro e Ciavardini, due terroristi neri, loro hanno messo la bomba per la giustizia italiana, io credo nella giustizia e lo sottolineo perché ci sono stati anche così, ogni tanto c'è un po' di strano negazionismo su questo fronte. e quindi io penso che tutta questa serie di cose certamente fanno sì che se la verità giudiziaria sia carente, quella storica ci consente di inquadrare il fenomeno, di individuare responsabili. Piazza Fontana la bomba ce l'hanno messa, i neofascisti con la complicità dei servizi, diciamo in un contesto internazionale in cui il mondo era diviso in blocchi e l'Italia era un paese cerniera. Io mi fermo qui perché se no potremmo andare avanti. Assolutamente, anche perché ripeto l'argomento di questa trasmissione, l'ho detto inizialmente, è quello politico perché lei il suo impegno anche su questi temi lo vuole mettere a disposizione nuovamente della collettività accettando la sfida di Luciano D'Amico per un abruzzo diverso rispetto a quello di Marsiglio. Intanto lei si era candidato con una lista del Presidente, una lista fatta anche di esponenti, di amministratori, di ex amministratori che sostengono questa campagna elettorale di Luciano D'Amico. Innanzitutto il suo giudizio sulla persona e sulla proposta. Luciano D'Amico è una persona di grande livello, non solo per il suo percorso. Lui partendo da un piccolo paese dell'Abruzzo è diventato con merito professore ordinario di economia aziendale all'università, rettore della medesima, sto parlando di Teramo, ma non è il classico intellettuale che sta chiuso nella Torre d'Avorio, si è sporcato le mani, ha fatto il Presidente di Tua, ha sofferto anche per questo, lo ha fatto benissimo con riconosciuta competenza. Si sono oggi create le condizioni per cui uno schieramento vasto, in una parola tutte le opposizioni presenti in Parlamento, oggi si mettono insieme sotto un cielo comune, questo cielo è il cielo di Luciano D'Amico, una personalità in grado di piacere a tutti e di tenere in piedi una coalizione ampia. È un esperimento politico significativo perché ogni volta che ci sono le elezioni si accusa le opposizioni, non vi siete neanche messi insieme, non avete neanche provato a giocare. Proviamo a farlo ed è questo lo spirito con il quale Luciano D'Amico mi ha invitato a partecipare in prima persona elettoralmente, candidandomi, mettendoci la faccia come si suol dire. Io ci ho pensato e alla fine ho accettato questa sfida che è un modo in qualche modo di riprendere un filo interrotto nel 2019. Io non sono un politico di professione come è noto, sono un avvocato. In questi anni, oltre che come tutti fare i conti col Covid, ho cercato di sempre stimolare l'industria del pensiero e quindi per avere nuovi punti di vista sull'amministrazione pubblica ho fatto degli studi, sono andato a Milano, alla Bocconi e tutte queste belle cose qui. Ho fatto un percorso di civismo con degli amministratori in questi anni e in coerenza in qualche modo con questo percorso ci mettiamo in gioco. Lei in questi anni ha reciso il legame con la città dopo l'esperienza da sindaco e comunque in ogni caso è stata traumatizzante perché ogni sindaco dopo i cinque anni non è più lo stesso rispetto al giorno in cui ha assunto quel ruolo, soprattutto in una città così complessa come Pescara, ha mantenuto il rapporto con la comunità oppure ha voluto, inizialmente lei lo aveva proprio detto, stacco un attimo la spina, ma oggi come vede intanto la sua città? Diciamo che al di là di tutte queste dichiarazioni di maniera che vogliono, questo sumo peromismo dell'uomo politico, il sindaco è un mestiere molto impegnativo e io vedo il volto del mio successore. Mi basta vedere quello per capire che c'è tanta pressione in quella stanza. Io scherzavo ai tempi sindacali dicendo che l'altezza delle volte della stanza del sindaco è direttamente proporzionale ai problemi, volte molto alte, problemi molto alti ed è così. Però è un mestiere importante e peraltro, non so se lo sapete, ma oltre alle elezioni regionali ce ne sono anche altre direzioni, perché a giugno per esempio si vota elezioni europee e guarda caso anche il comune di Pescara. Chissà perché poi non si riesce a fare un election day per non tormentare i cittadini. E anche le televisioni che devono fare più volte. Sì, sì, ci credo, impegnativo per tutti. Al di là di questo, secondo lei sono stati fatti dei passi indietro, dei mancati passi in avanti rispetto a quanto lei ha lasciato alla città dopo l'esperienza di governo del centro-sinistra? Guardi, allora innanzitutto io non dimentico che in questi anni c'è stato il Covid, quindi per un certo periodo tutto è stato sospeso come una coltre di neve che copre la città. Dopodiché a giugno i pescaresi decideranno. Io penso a che differenza ci sia fra idea e azione, fra dire e fare, perché quando sei all'opposizione, come l'attuale sindaco era con me, vergogna, questo non va, bla, bla, però poi quando tocca a te decidere, ogni scelta non è neutra, via Marconi. Io sono diventato improvvisamente molto popolare in via Marconi quando ci passo, perché sento suonare Aridatece Baffone, cioè il sottoscritto, perché via Marconi è una scelta che evidentemente non è piaciuta molto. Riccardo, ma perché in città si è creata questa frattura tra l'amministrazione comunale e il suo elettorato di riferimento, che dovrebbe essere quello del commercio, insomma delle attività produttive? Io credo perché ci sia stata una certa prepotenza nella gira, cioè adesso vogliamo quasi due minuti nel merito, via Marconi è un certo finanziamento europeo sulla mobilità sostenibile, è un finanziamento che bisogna spendere se non torna indietro, troppe volte le pubbliche amministrazioni sono accusate di non essere in grado di spendere i fondi e i soldi che ci sono. Abbiamo lasciato un certo progetto, sapendo che, salvo che i cittadini ci avessero confermato, non saremmo stati noi a occuparci. Questo progetto che era A è stato trasformato in un progetto che è B. Io sono sicuro che anche il progetto A avrebbe avuto opposizioni, perché quando cambi lo status quo succede sempre. Dopo lì che non mi sembra che ci sia stato un dialogo con le parti, io mi ricordo quando abbiamo fatto degli interventi sostanziali, insomma lì ogni volta bisogna... Ho sempre la capacità di ascolto che è mancata. E cercare poi sempre... Ma lei forse ne ha avuta troppa quando è stato così. Ma non lo so, guardi, in realtà se il nostro signore ci ha dato due orecchie e una bocca, vuol dire che dobbiamo più ascoltare che parlare, io penso in linea di massimo e credo che l'ascolto sia indispensabile. Eletto in Regione, Marco Alessandrini, come seguirà la Grande Pescara questo processo che è stato avviato? Io penso... Sembra inesorabile però. Guardi, io penso che se non vogliamo fare la figura del paese delle banane, dobbiamo tenere seriamente a mente la scadenza del 2027 come data di nascita della nuova città. Per fare questo però non si può stare con le mani in mano perché evidentemente in quella che sarà una consigliatura comunale molto breve, di due anni e mezzo, ci dovrà essere l'obiettivo prioritario di fare la nuova Pescara, che significa garantire l'allineamento di percorsi amministrativi anche complessi, superare le resistenze che ci sono inevitabilmente da parte dei comuni di Montesilvano e Spoltore e trovare una sintesi perché i cittadini sono pronunciati, non penso che sia saggio prenderlo in giro. Da parte sua in effetti la Regione non può fare molto altro se non aver dato questa legge, questa possibilità. Però la Regione ha anche poteri di impulso commissariali, quindi non mi sembra una cosa di poco conto perché bisogna volerlo fare. E invece a lei di quali temi specifici gradirebbe occuparsi se gli elettori le dessero il consenso per arrivare a Palazzo dell'emiciclo? Allora, in queste settimane figurativamente si dice che si accendono i motori, si riuniscono dei tavoli programmatici, si elaborano documenti, si discute, si fa il programma in una parola. I programmi sono un esercizio interessante, ma ricordo sempre che la campagna elettorale è la poesia, ma l'amministrazione è la prosa, il concreto. A me piacerebbe occuparmi di sostenibilità perché penso sia la frontiera a cui tendere, cioè noi abbiamo un orizzonte, non so se questa è la sede giusta, ma comunque Abruzzo Regione Verde d'Europa, Abruzzo Regione Sostenibile d'Europa. Io penso che questa sia la questione centrale, dopodiché so bene cosa è la sfida dell'amministrazione. Non ci sono soluzioni facili a problemi che normalmente sono complessi. Chi arriva non moltiplica i panni e i pesci perché l'ultimo che faceva queste cose, se non sbaglio, è stato avvistato in Galilea qualche migliaio di anni fa. E quindi a risorse pubbliche scarse, bisogni infiniti, bisogna fare delle scelte. Io non avrei dato 12 milioni di euro a Napoli, per dirne una. Lei in questa iniziativa elettorale, su chi conta come compagni di viaggio? In questa esperienza che lei ha fatto una campagna elettorale da sindaco, aveva una coalizione al suo interno. Adesso non ha un partito, avrà un suo comitato elettorale, avrà degli amici che l'aiuteranno. Sarà una campagna elettorale molto diversa, anche con risorse molto limitate rispetto a quelle che può avere un sindaco candidato da una coalizione. Qual è il problema principale e qual è anche l'opportunità invece che nasce da questa situazione di candidato, come si dice, una volta si diceva peones, quelli che combattono da soli, anche contro quelli della stessa lista per avere il maggior numero di preferenze. E' un modo per ritornare giovane, perché io nella mia vita ho fatto nel 2008 una campagna elettorale per il Consiglio Comunale a Pescara, nel 2009-2014 da sindaco, però conosco cosa significa cercare il voto individuale. E' una sfida per vedere quanti moderatamente elessandrignani ci sono. Io lo chiamo l'elettore ignoto. Non sono solito avere elenchi telefonici con i miei contatti, non mando messaggi, non inondo di mail e altrui caselle, però ho incoraggiamento dal fatto che l'elettore ignoto, cioè una persona che io non conosco, mi ferma per strada e ho notato che questo accade non solo a Pescara e mi sembra che mi mostri un sorriso, che da qui a scrivere il mio nome su una scheda elettorale so che ce ne passa. Però mi sembra una base incoraggiante. Coraggiante ed è comunque anche un modo per ritornare a Peones fa molto bene, ecco questo è il punto. Bene, grazie a Marco Alessandrini per aver accolto il nostro invito proprio nella giornata del 12 dicembre e diciamo un buon 12 dicembre di riflessione su quello che è stato per il nostro paese quel giorno e soprattutto per quello che ancora non conosciamo, delle tante trame nere e dei misteri di questo paese. Grazie, buona serata.